La Madonna ha lasciato un messaggio che è dell'incredibile, infatti avrebbe svelato il luogo della sua prossima apparizione, ecco il messaggio completo Amati figli, il mio apparire sarà accompagnato da un mantello di un colore celeste profondo, ornato da una corona di 12 stelle che brilleranno sulla mia testa Inginocandomi di fronte a voi e al mondo intero, mostrerò il mio cuore addolorato e lacrimante Figli miei, questo è un segno che desidero donarvi Vi chiedo di essere umili e amorevoli con tutti coloro che incontrate lungo il vostro cammino Unitevi a me nella preghiera e invocate lo Spirito Santo, affinché, con la sua potente luce, possa sorgere una nuova alba di pace per tutta l'umanità Solo quando porrete fine agli orrori che affliggono il mondo, il mio cuore smetterà di versare lacrime Vi invito a pregare con me per i popoli e le nazioni che soffrono a causa dei conflitti Benedico voi, portatori di pace, e benedico tutta la terra e tutti i popoli che la abitano Figlioli, nessun cuore deve essere privo di speranza e amore Tuttavia, siate vigili e prudenti, poiché da questo momento in poi le tentazioni di Satana saranno così forti da farvi correre il rischio di compiere atti gravi Cose che nemmeno voi immaginereste di fare Ricordate sempre che siete figli di Dio, la creazione più preziosa che Lui abbia mai realizzato Dovete sempre discernere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato Appartenete al Padre Celeste, che vi ha donato il mio Gesù, suo unico figlio, che ha sacrificato la sua vita sulla croce per voi Quando il giorno arriverà in cui farete ritorno nella casa del Padre, la vostra anima vivrà in eterno insieme a me, a Gesù e al nostro Padre Celeste Voi vivrete per sempre in una gioventù eterna, senza alcuna sofferenza Cari figli, presto darò di nuovo testimonianza della mia presenza, ma questa volta sarà diversa Coloro che mi vedranno percepiteranno anche il mio dolore e lo sentiranno nel profondo del cuore e dell'anima Figli devoti, diamo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Che la pace sia sempre con voi nei vostri cuori Cosa ne pensi di questo messaggio? Faccelo sapere come sempre nei commenti Ciao amici ed amiche alla prossima Grazie a tutti